qui dovrebbe andare bene. Oh, oh, oh. Eh sì, sapete perché? Perché questa la puoi utilizzare per giocare a paddle o anche per mettere un chiodo, perché è bella massiccia. Ciao ragazzi e bentornati al nuovo video qui sul mio canale e oggi siamo finalmente con una drop shot. Canyon Soft, la pala che in teoria utilizza Pablo Lima però nella versione più morbida delle due, perché sapete che esiste anche la Pro, lei invece è la versione soft. Un attimo più abbordabile rispetto alla Pro, ma più avanti vediamo per chi va l'una e per chi va l'altra, perché ho provato la Pro già tempo fa, non ne ho fatto una recensione completa, ma presto ve la porterò comunque sul canale e ne parleremo approfonditamente. Tuttavia posso già fare i confronti e quindi in questa recensione, diciamo, qualche spunto rispetto alla Pro comunque verrà fuori. Allora, vediamo un po' di specifiche riguardo a Canyon Pro e partiamo col dire che è una pala che vale 360 e 380 grammi, lei è 380 grammi, quindi un bel martello, ancora di più perché il bilanciamento rilevato è 27.7 centimetri. 380 grammi, 27.7, diciamo che le martellate vengono bene, sia sul muro sia in campo. Tanta tecnologia all'interno di questa pala, che chiaramente è una diamante come potete vedere, con finitura rugosa sulle facce, eva soft all'interno, carbonio tech stream, sistema antivibrazione di silicone all'interno del manico, oltre che un altro sistema di sughero, un po' come la cork in sostanza, che poi alla fine cork significa sughero, non so se lo sapevate, sempre applicato sul manico. Quindi pala che ha degli aspetti molto interessanti dal punto di vista della protezione per quanto riguarda il braccio, nonostante le sue propensioni comunque agonistiche e soprattutto belligeranti. Diciamo che le tecnologie sono tantissime, ve le faccio vedere, sono indicate tutte quante qua, non ve le sto ad elencare tutte, se volete queste le trovate tranquillamente sul sito di Dropshot e quindi diciamo che a noi interessa un po' più come va la racchetta. Parliamo però un attimo di finiture perché non è fatta male, assolutamente. Un po' di finiture diciamo, non posso dire nemmeno grossolane, ma un po' di disattenzioni dal punto di vista dell'estetica ci sono. Cioè un po' di verniciature non perfette, purtroppo diciamo ragazzi, sapete che nel paddle non troppo spesso, purtroppo, le racchette sono perfette. Quindi non aspettatevi una verniciatura top, però la racchetta in generale diciamo si presenta bene e la vernice anche dopo il test devo dire che ha resistito abbastanza. Si macchia un po' questo bianco perché comunque è un bianco poloso, però non cede, devo dire che salti di vernice non ce ne sono. Va fatto un cenno per quanto riguarda il manico, manico tendente al piccolo, non piccolissimo in assoluto. A me dà soddisfazione questo tipo di manico perché mi dà una buona giocabilità anche con il polso. Qualcuno preferirà diciamo una misura più grande. Non male anche il fondello che, vi faccio vedere, è un fondello abbastanza dritto, però devo dire che dal punto di vista dell'ergonomia non dà fastidio ed anzi ho apprezzato questo grip in diverse occasioni. Grip comunque lungo, 14,5 cm, reali e un bello sviluppo diciamo di volume, come detto, non esagerato ma comunque che porta la sua pienezza rispetto a tanti altri brand sul mercato. Qui abbiamo un fondello stondato, mentre su altre versioni di Dropshot abbiamo un fondello invece tagliato di netto. Preferisco questo qui stondato che mi ricorda un po' quello tennistico, quindi lo trovo più familiare. Bello anche il polsino, non male, devo dire polsino che è un po' invernale dal mio punto di vista, però sapete che non amo il polsino. Lo trovo molto ben fatto, qui non c'è il ricamo, c'è diciamo la stampa Dropshot sul polsino, il polsino è in licra. Tuttavia devono dire che spesso questo polsino tende un pochettino a girarsi, quindi non il migliore dei polsini che abbia provato, però diciamo per chi ama il polsino magari ci farà meno attenzione. Io il polsino lo sento sempre un po'. E allora prima di vedere come va questa Canyonsoft in campo, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e lascia un grande like a questo video perché è il modo migliore per supportarmi. Perché sapete che YouTube, quando lasciate il like, fa girare i contenuti e lo stesso vale per quanto riguarda i commenti, quindi se avete una curiosità, se volete dirmi che questa recensione vi è piaciuta, lasciate un like e commentate questo video e magari condividetelo anche con gli amici. Per chi volesse poi, vi ricordo che sono attivi anche gli abbonamenti su questo canale, quindi un ulteriore aiuto per sviluppare questo progetto che sto portando avanti, se ti va, abbonati e avrai dei contenuti esclusivi. Ma ora andiamo a vedere lei come va. Lei è, ragazzi, una racchetta molto interessante. Perché? Perché ci sono le diamante e solitamente le diamante sono rigide. Lei è tutto fuorché rigida, quindi avere una racchetta che ha delle proporzioni comunque di pesantezza anche perché ragazzi, 380 grammi, ok, lei è un po' verso il limite alto, ma il bilanciamento 27-7 è un bilanciamento serio, anche perché la pala ha uno sviluppo di inerzia importante, quindi hai una condizione di gioco che non porta sicuramente una pala agile e non è una pala agile in assoluto. Lo diventa perché non è una di quelle pale da giocarci a tutto braccio. Io personalmente preferisco pale più agili, difficilmente supero i 360 grammi e quindi alcune considerazioni di questa recensione vanno fatte anche alla luce del fatto che io non amo racchette particolarmente pesanti. Mi piacciono racchette solide, assolutamente, infatti solitamente mi dirigo anch'io verso le diamante, ma cerco comunque un telaio che mi lasci agilità nel modo in cui si muova in aria e in generale, diciamo, la pala pesante mi fa sentire sempre un po' impacciato. Però trovo sempre il modo di giocarci, che è un modo che mi piace un po' meno. Non per questo non lo apprezzo. Apprezzo il fatto che questa pala giochi in un modo specifico e che abbia una sua personalità. Quello che fa veramente bene è spingere la palla con poco. Lei ha questa capacità di spingere la palla veramente con molto poco, quindi appoggiandosi al colpo, dandole il giusto e lei viene fuori con una potenza solida, facile e solida anzi, che ti ha male e ti dice, eh, ma io con questa archetta ci potrei anche giocare. È vero che non rientra nelle mie specifiche preferite, ma dal punto di vista del gioco generale, lei è una pala che fa uscire la palla con una facilità pazzesca. Talla e diamante, secondo me, è una di quelle che ha il punto dolce più grande in assoluto. Certo, se andate ad impattare la parte bassa, è chiaro che vi partirà molto poco. Però il punto dolce non l'ho trovato né troppo alto né troppo piccolo, quindi questa sua condizione di gioco la fa essere comunque accondiscendente. Mi ha particolarmente colpito per questo motivo, cioè il fatto che comunque è una diamante, è pesante, bilanciamento alto, tu ti aspetti che sia un martello in tutto e per tutto, ma un martello con cui martellare. E invece no, lei ha un martello con cui carezzare la palla e poi è lei a spingerti i colpi. E lo fa sia al volo, chiaramente, ma soprattutto dal fondo, dove ti appoggi sui colpi e ti dona un bel controllo. Devo dire che lei ha veramente un bel controllo, riesce a darti una situazione di tranquillità sul colpo, di solidità e di gestione della palla che è abbastanza fuori dal comune. Per me questa Canyon Soft è una pala molto molto sensata. Pesante, attenzione. Questo test e il video che vedete l'ho girato dopo due ore di registrazione di racchette da incubo. Format che vi invito a guardare qui sul canale perché è sempre molto edificante rispetto alla scelta di Telai, quindi con tanti feedback e quindi non vi perdete le puntate di racchette da incubo. Quindi venivo già da due ore in campo e ho registrato la recensione di questa pala proprio sulla stanchessa per farvi vedere cosa viene fuori quando ti resta un po' poca energia. Potete capire nelle scene che state guardando quanto la palla esca facilmente anche quando tu fisicamente non sei al top perché è lì che si valuta la palla, ragazzi. La palla non si valuta nei primi 5 minuti né nei primi 10 minuti o la prima mezz'ora in cui siete freschi e state giocando alla grande. La palla si valuta dopo l'ora e mezza di gioco perché le partite non durano 30 minuti, non durano 20 minuti e la palla vi deve portare a fine partita con la prestazione massima che può. Altrimenti diventa invalidante ed è così che si valuta una racchetta da padel. Va valutata per tutto il tempo che dovete giocare e non nei primi minuti. La palla non la dovete subire e quindi lei che ha questo atteggiamento soft, questo atteggiamento generoso dal punto di vista dell'uscita di palla, quando sei un attimo più stanco ti aiuta. Non ti aiuta dal punto di vista generale perché non è una palla che riesce a muovere velocemente ed in maniera aggressiva, perché pesa e pesa, ha uno sviluppo di inerzia importante, ma è una palla che ti fa uscire tanto, con poco. Tu metti un poco di braccio, fai il movimento giusto, corretto, compatto e lei ti spinge la palla. E lo fa, ripeto, con tanto controllo. Per cui dal fondo veramente niente male. Da gestire un po' la testa perché comunque talvolta è un po' generosa, ma comunque a controllo e quindi è un po' da gestire con esperienza. Sicuramente è una palla da giocatore con esperienza perché comunque appena ti distrai lei spara, spara anche forte. Però spara in quella maniera che un po' non te ne fa accorgere perché è una potenza morbida. Lei va via proprio di coppia. Volendo fare un paragone con il mondo dei motori ha veramente tanta coppia. Fa partire la palla in modo tanto facile e quindi deve avere un po' di controllo nel braccio comunque per gestire il telaio. Deve avere controllo sull'attrezzo e quindi ci vuole esperienza. Qui ti fa capire che non è un telaio da neofita perché comunque l'esperienza te la richiede. Più che altro, ripeto, nella tecnica, nel modo in cui vengono portati i colpi, nel modo in cui va gestita questa palla. Quindi un giocatore più irruento in ogni caso non ci ricava tantissimo perché ha un nucleo soft e mo' vediamo perché non ci ricava tantissimo. Mentre un giocatore che ha più mano e che sa apprezzare una palla tanto generosa in uscita di palla con un bilanciamento alto perché qui non solo il nucleo soft ma c'è anche il bilanciamento alto quindi un doppio elemento che va a spingere la palla. Beh ragazzi è una condizione di gioco che comunque è interessante. Quindi per me promossa veramente a pieni voti dal fondo dove mi aspettavo veramente molto meno. Dove ho trovato un punto dolce interessante, dove ho trovato comunque un buon controllo, dove ho trovato non tanta maneggevolezza ma se usata con parsimonia di braccio quindi con giustezza dei movimenti senza aprire troppo, senza sfondare troppo la pallina, senza ricercare la potenza massima, ragazzi va bene dal fondo. Non posso dire rilassante perché comunque va gestita dal punto di vista fisico e non è sicuramente una palla leggera, quindi non è delle più maneggevoli, delle più agevoli dal fondo. Però paragonata e inquadrata nel mondo delle diamante, quindi tutto questo raggiamento è da inquadrare nel mondo delle diamante, lei sicuramente dal fondo è una delle più generose della sua categoria. Ora andiamo verso la rete, perché verso la rete devo dire che è una palla che mi piace tanto ma che non comprerei, perché sinceramente lei ha un atteggiamento di gratuità di uscita di palla ed è una di quelle pale da gestire con fluidità. Io preferisco raccette più agili che mi consentono più velocità di ingresso e tendenzialmente preferisco ad esempio lo smash dritto per dritto allo smashing kick. Lei invece è più verso lo smashing kick, laddove lo smash dritto per dritto è buono ad esempio, ma è uno smash che va un attimo più controllato nella sua velocità, cioè devi lasciare che lei spinga, per cui è una di quelle tipiche pale da tre quarti di velocità e lei con la massa, bilanciamento alto e nucleo sotto ti va a dare tutto il resto nella spinta. Io sono meno calcolatore, preferisco una pala un po' più istintiva sui colpi al volo, lei invece per chi calcola bene i colpi al volo e li gioca più fluidi, più morbidi, trova il telaio che insomma spinge per lui. Questo è il lavoro che fa veramente molto bene. Considerazione che va fatta sui colpi al volo e anche sulle volé, dove mi è piaciuta molto perché ha tanto controllo sulle volé, le volé sono veramente interessanti perché controlla bene, partono bene, sono solide, lo spin se lo prende, il controllo c'è. Le volé ragazzi, punto migliore secondo me con questa Canyonsoft. Veramente sulle volé si fa tanto, si controlla bene, sono tra le migliori volé che abbia provato sulle racchette a diamante. A lei comunque è una cabbezzona, è un'archetta che comunque quando vai a giocare i colpi e dai un po' di velocità in più rispetto a quello che servirebbe, ti chiude il polso. Senti che il peso fa così, sia sulle volé, sia sullo smash, su una vibora. Devi fare attenzione a come è gestita, la devi gestire comunque con fluidità. Se la vai a forzare ti tira fuori una massa che richiede un braccio veramente esperto per gestirla e talvolta anche forte. Se invece la rispetti, va detto che lei è generosa sui colpi al volo, quindi non è una pala castrante dal punto di vista dei colpi al volo. Il fatto che sia soft non deve far rintendere che sia una pala poco potente, ma è diversamente potente. Rispetto alla Pro, ad esempio, la Pro ha tanta più potenza, ma non ha questa potenza facile. Ha una potenza che inizia dove finisce la sua potenza. Quindi, al di là del fatto che tra lei e la Pro si possa scegliere tra racchetta morbida e la racchetta più rigida, bisogna capire che lei spinge facile. La Pro spinge se spingi tu. Il giocatore a cui si rivolge è differente tra lei e la Canyon Pro. È vero che la Pro è un po' più difficile da gestire fisicamente, perché mentre lei la porti fluida e funziona, la Pro la devi spingicchiare un po', diciamo, inizia a funzionare ad un ritmo più alto, tendenzialmente più nel mio range. Io l'ho provata in tono a 370 grammi, quindi un filo più leggero rispetto a lei, non mi era dispiaciuta ed è veramente un cannone dal punto di vista della spinta. Però il Nucleo Pro di Dropshot è tosto, quindi non è una racchetta per tutti, un po' per il condizionamento di braccio che ci vuole e un po', diciamo, per la forza fisica che bisogna avere insieme alla tecnica. Quindi, diciamo che lei è indubbiamente più agevole e forse è la diamante, la cabezona un po' più per la massa, è più adatta a chi magari si allena, ma fisicamente non è un torello. Tra le due io comprerei la Pro. E allora andiamo a vedere perché comprarla e perché no. La comprerei perché è generosa, la comprerei perché è bella, la comprerei perché è una diamante tendenzialmente non difficile tecnicamente, è una diamante che riesce a darti con la giusta tecnica e la giusta forza impressa una prestazione di alto livello. La comprerei perché ha un buono spin e ha un bel controllo. Mi piace questa combinazione di una pala che talvolta la devi guardare e dici, oddio, ma c'ho veramente una diamante in mano? E poi scopri che è una diamante, è una cabezona e che comunque ti funziona piuttosto bene. Non la comprerei perché tendenzialmente preferisco le diamante un po' più rigide, più reattive, più leggere. Quindi condizione di gioco differente, ma lei comunque ha la sua identità e quindi per un giocatore un po' più di mano, un po' più calcolatore dal punto di vista della spinta fa tanto, ci mette tanto. Questo è quello che diciamo che a me non piace tantissimo delle diamante soft perché comunque ha un altro motivo per cui non la comprerei, cioè un'uscita di palla che sebbene sulle voler mi piace tantissimo il fatto di poterle controllare e lavorare, quando vuoi spingere qualcosa in più in maniera più forzata la senti un po', senti che lei pesa e che la palla esce un attimo più lentamente rispetto al solito. Quindi vi ripeto, preferisco soluzioni più leggere e più reattive. Ma ciò non vuol dire che lei non abbia il suo pubblico, anzi il suo pubblico c'è e probabilmente è più universale rispetto alle scelte che io solitamente faccio. E allora andiamo a vedere la pagella di questa Dropshot Canyon Soft. Bel martello ragazzi, veramente bel martelletto, però un martello delicato. Quindi ci può stare, è una scelta che va verso la potenza facile in una cabezona. Particolare, interessante, sicuramente la sua identità. E allora ragazzi, io vi ricordo che lei è disponibile presso il mio parser padelguru.it dove avete il mio sconto del 5% con codice FABIOPADEL. E ovviamente ragazzi, vi ricordo, iscrivetevi al mio gruppo Telegram Padellisti Negati, trovate tutti i link qui in descrizione e ogni giorno parliamo di padel e di intorni. Quindi un bel gruppetto. Siamo ormai intorno ai 700 iscritti, quindi un bel gruppetto di appassionati che ogni giorno discute, chiede consigli o semplicemente fa una chiacchiera tutti insieme. Perché vi ricordo che il mio intento è quello di creare anche e soprattutto una community. Per quanto riguarda me ragazzi, seguitemi su Instagram dove anticipo tutti i contenuti e dove spesso realizzo i giveaway. Quindi se vi volete pappare ogni tanto le racchette che metto in palio, mi raccomando, seguitemi su Instagram e anche lì, se vi trovate, lasciate sempre un cuoricino ai contenuti, che fa sempre bene. E ovviamente iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video, perché il like, ragazzi, vi ricordo che il modo in cui dite a YouTube che questi video servono a qualcosa, che questo canale è utile per qualcuno e quindi, oltre a consigliarlo agli amici, lasciate sempre un like a tutti i miei contenuti quando li vedete. Mi raccomando, è importantissimo e vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.